È una grande esperienza in Regione Veneto. Sì, è un ruolo importante, un ruolo particolarmente delicato perché le attività produttive in una regione dove l'impresa, la spina versale della nostra economia e dove la crisi continua a mordere, questa è una grandissima responsabilità che accolgo con grande senso e dovere. Mi dica il mercato, qual è secondo me il punto che bisogna subito incominciare, rafforzarlo, migliorarlo. Dobbiamo lavorare tutti per creare il lavoro, questo è fondamentalmente, ridare a Regione quella dignità e quella forza che ha avuto negli anni. Grazie. Grazie.